Vi faccio sempre 100 domande, come sapete 100 domande in 100 giorni, hai 6 registrato SPD? Sì, la maggior parte, almeno dei miei, messaggi interessanti, aspetta che lo guardiamo più così, ok sì lo consiglio, cambiato persino il medico da casa, comodamente in ciabatti, meno male, devo ammettere che l'utilità è insostituibile anche se vi sono alcuni servizi che andrebbero implementati, l'altro dice sì ma la registrazione è da incubo perché c'è il solito problema che, come dire, a seconda del browser, di dove sei, di cosa fai, ancora la logica dell'usabilità di Facebook per la pubblica amministrazione è ancora purtroppo lontana. Leggi i libri in formato elettronico? No, cioè la maggior parte dice di no, dei miei peraltro, quindi gente interessata al digitale, Milord dice sì, ne ho un casino, ingrandisce i caratteri, faccio un po' quello che voglio, poi ci dice Rosy, Rosy dice sì anch'io, mi trovo, però il cartaceo è il mio amore grande, se dire, sentire il tatto la carta e il profumo è così, anche l'altra dice che Isabelle Ratatouille Hall dice che la carta tra le dita è tutta un'altra cosa. Photoshop i tuoi selfie? No, quindi è sì, ma no, cosa vai pensando? Quindi è sì, è per cui sì, vediamo cosa dice, ma lui è la cazzolata, dice, sono detto no, con tutta la fatica che ho fatto per farmi queste rughe, è sempre molto molto affascinante. Amici, vediamo cosa c'è, le domande abbiamo detto che le saltiamo, questa qui non è quella delle domande, io vi dico solo, così, andate su camisani-cazzolio.it, scrivetevi nella newsletter se avete voglia, così vi arrivano le notizie dirette delle mie cose, senza bisogno di passare attraverso gli algoritmi dei social network, signori, e condividete quello che si può, tanto mi state vedendo solamente da Instagram e qualcuno qua, e pochi via Zoom, per cui che devo fare? Non faccio altro oggi che votarvi e ci vediamo lunedì prossimo, questa volta speriamo, su tutti i social network. Del vostro MCC Marco Camisani-Cazzolari, alla prossima!